A distanza di quasi un mese dall'ultima protesta ritornano a fare sentire la loro voce le operatrici del servizio di rivezione scolastica a Gela. Questa mattina altro si tina dinanzi all'assessorato all'istruzione in Viale Mediterraneo. Oggi è il primo dicembre e la rivezione nelle scuole ancora non è partita. Perché? L'abbiamo chiesto al segretario della Filcams Cigelle Emanuele Scicolone. Noi abbiamo saputo che mentre si era concordato, l'amministratore comunale aveva scelto di dare imbroroga all'azienda che aveva fatto l'ultimo giorno del servizio. Addirittura abbiamo avuto contatti come sindacato con questa azienda per fare già le assunzioni. Poi abbiamo saputo invece che per via di un credo a quanto pare l'azienda che aveva fatto il ricorso già l'anno scorso aveva ottenuto un commissariamento del servizio. E il sindaco gli ha proposto di barattare la rinuncia al commissariamento con l'affidamento del servizio. C'è una cosa che legalmente si può fare e ad oggi sappiamo che si è di nuovo, diciamo così, si sta ritardando o comunque è tutto fermo perché mancherebbe un barrile legale del ufficio legale del sindaco. Le operatrici del servizio di rivezione scolastica sono stanchi di aspettare. L'amministrazione comunale, hanno ripetito ancora una volta, deve fare in fretta. Noi adesso siamo qua per questo perché stamattina vogliamo delle risposte certe. Non ce ne andiamo da qua semmai loro non ci danno una risposta concreta. Gli altri anni abbiamo iniziato prima, tipo la fine di ottobre, invece quest'anno proprio non era mai successo che noi a novembre, dicembre restavamo fermi completamente. Il ritardo è troppo quest'anno, si doveva migliorare, invece quest'anno siamo molto ma molto delusi, nel senso di dire sia dall'amministrazione sia di tutti. Quindi siamo qua proprio per una protesta e non ce ne andiamo.